Ottavo posto alla Rood Room 2022 nei class 40 per Alberto Bona. Nonostante il brutto incidente è capitato agli a metà gara, Alberto si ferisce alla testa e deve necessariamente rallentare per automedicarsi. Grazie anche all'aiuto dell'assistenza da terra riesce comunque a condurre la regata sempre nella top ten, superando anche la rottura del jennacher. Torinese classe 1986, Alberto ha la vela nel sangue. Da neonato gira il Mediterraneo con la barca di famiglia. Nel 2006 si costruisce una deriva di due metri e mezzo in giardino e attraversa da solo il Tirreno, dalla Liguria alla Corsica, seguito dal Giornale della Vela. Per farsi le ossa in questa Rood Room si allena duramente nella palestra più tosta, quella dei monotipo Figaro. Una verve di ferro davvero marinaio di altri tempi porta Alberto a non desistere mai. Sicuramente lo vedremo presto impegnato in altre imprese epiche.